Ciao a tutti gli appassionati di astrologia e benvenuti al nostro incontro settimanale con il destino. È un piacere darvi il benvenuto mentre ci addentriamo insieme nei segreti e nelle previsioni che i pianeti ci riservano per la settimana a venire. Attraverso l'antica arte dell'astrologia e l'interpretazione esperta dei nostri astrologi, scopriremo quali influenze cosmiche influenzeranno i vari aspetti della vostra vita, dall'amore alla carriera e oltre. Prendetevi un momento per rilassarvi e immergervi in questa esperienza celestiale. Segno ariete Questa settimana si prospetta dinamica per gli ariete. Le energie planetarie ti spingono verso nuovi inizi e opportunità. È il momento di mettere in atto i tuoi piani e di concentrarti sui tuoi obiettivi. Branco consiglia di rimanere aperto ai cambiamenti e di sfruttare al massimo le occasioni che si presenteranno. La giornata promette di essere ricca di opportunità per gli ariete. La creatività sarà al suo apice, consentendo nuove idee e progetti di emergere. Mantenere un atteggiamento ottimista ti aiuterà a superare eventuali sfide. È un momento ideale per intraprendere nuove avventure e mostrare il tuo talento al mondo. Amore, le relazioni saranno armoniose e appaganti. Esprimi i tuoi sentimenti in modo sincero. Lavoro, approfitta di questa fase creativa per avanzare nelle tue attività lavorative. Salute, presta attenzione alla tua salute mentale e trova momenti di relax. Segno toro Per i toro, questa settimana potrebbe portare rivelazioni e momenti di chiarezza. Potresti avere delle intuizioni significative riguardo a questioni personali o professionali. L'oroscopo di Branco suggerisce di seguire il tuo istinto e di prendere decisioni basate sulla tua intuizione. Per i nati sotto il segno del toro, la giornata potrebbe portare alcune sfide da affrontare. È importante mantenere la calma e prendere decisioni ponderate. Non lasciare che lo stress influisca sulle tue interazioni sociali. Trovare un equilibrio tra il lavoro e il tempo libero sarà fondamentale. Amore, comunicare apertamente con il tuo partner ti aiuterà a superare eventuali malintesi. Lavoro, affronta le sfide sul lavoro con determinazione e pianificazione. Salute, dedica del tempo alle attività fisiche che ti piacciono per alleviare lo stress. Segno gemelli Le influenze planetarie suggeriscono che i gemelli potrebbero sperimentare una maggiore comunicatività questa settimana. È un buon momento per esprimere le tue idee e per avere conversazioni significative. Branco ti consiglia di ascoltare anche le opinioni degli altri e di evitare malintesi. I gemelli potrebbero sperimentare un'energia positiva in questa giornata. La comunicazione sarà il tuo punto forte, facilitando le interazioni sociali e la risoluzione di questioni complesse. Sfrutta questa energia per chiarire malintesi e rafforzare le connessioni con gli altri. Amore, mostra il tuo affetto e ascolta attentamente ciò che il tuo partner ha da dire. Lavoro, lavora in squadra per ottenere risultati migliori e condividi le tue idee con fiducia. Salute, mantieni un equilibrio tra attività mentali e fisiche per favorire il benessere generale. È il momento di fare delle valutazioni definitive, alcuni progetti sono destinati ad arenarsi prima del tempo. Sta a voi capire se si può ancora salvare qualcosa o se è il caso di limitare i danni e passare oltre. Occhio a famiglie e amici, una polemica di troppo rischia di creare fratture importanti. Segno cancro. Per i nati sotto il segno del cancro, questa settimana potrebbe portare sfide legate alle relazioni personali. È importante affrontare le tensioni con empatia e comprensione. L'oroscopo di Branco suggerisce di trovare il giusto equilibrio tra esigenze personali e relazionali. I cancro avranno l'opportunità di focalizzarsi sulla cura di sé in questa giornata. Prenditi del tempo per riflettere sulle tue esigenze e desideri personali. Le emozioni potrebbero essere intense, quindi cerca modi salutari per esprimerle e gestirle. Amore, comunica apertamente i tuoi sentimenti con il tuo partner per creare una connessione più profonda. Lavoro, dedica del tempo alle tue passioni creative e sfrutta il tuo potenziale artistico. Salute, pratica tecniche di rilassamento per mantenere l'equilibrio emotivo. Si chiude con più serenità del solito l'agosto dei nati nel cancro. Pochi impegni e incombenze, tanto tempo da dedicare a voi stessi e alle persone che amate. È il periodo perfetto per rientrare in contatto con i vostri sentimenti. Ascoltate la vostra voce interiore, fatevi guidare dal cuore nella direzione giusta. Segno leone È il momento della verità per i nati nel leone. Niente più compromessi, niente più mezze parole per voi. Ci sono questioni importanti in sospeso e l'unico modo per garantire un buon risultato è un po' di sana chiarezza. Pretendete onestà da chi vi è attorno, non accettate falsi sorrisi. Non abbiate paura di chiudere una porta per aprirne una nuova. Le energie astrali favoriscono il leone in ambito professionale questa settimana. Potresti ricevere riconoscimenti o opportunità di crescita. È il momento di mettere in mostra le tue abilità e di lavorare duramente per i tuoi obiettivi. Branco ti consiglia di mantenere la fiducia nelle tue capacità. Per i leoni, la giornata potrebbe presentare sfide che richiedono pazienza e adattabilità. Evita conflitti inutili e cerca di trovare compromessi nelle situazioni difficili. Sfrutta la tua creatività per risolvere problemi imprevisti. Amore, sii aperto al dialogo e comprendi le prospettive del tuo partner. Lavoro, concentrati sull'obiettivo principale e lavora sodo per raggiungerlo. Salute, trova modi per ridurre lo stress, come praticare attività rilassanti o lo yoga. Segno vergine Un senso di sfinimento avvolge i nati nella vergine. La vostra forza d'animo vi rende una colonna portante per le persone a voi vicine. Un ruolo sfiancante di cui cominciate a sentire il peso sempre di più. Non rendete vuoti i vostri sacrifici, ma non limitatevi solo a rassegnarvi all'indifferenza altrui. Assicuratevi che chi vi circonda rispetti il vostro impegno e faccia la sua parte. Per i vergine, questa settimana si concentra sul benessere mentale e fisico. È un buon momento per adottare nuove pratiche di autocura e per dedicare del tempo a te stesso. L'oroscopo di Branco suggerisce di praticare la meditazione o l'attività fisica per mantenere l'equilibrio. Le vergini potrebbero trovarsi in una fase di crescita personale. Sfrutta questa energia per imparare nuove abilità o perfezionare quelle esistenti. La curiosità e l'apprendimento saranno i tuoi alleati nella realizzazione dei tuoi obiettivi. Amore, mostra il tuo affetto attraverso gesti semplici e attenzione ai dettagli. Lavoro, focalizzati sul miglioramento costante e cerca opportunità di formazione. Salute, mantieni uno stile di vita equilibrato e concediti momenti di svago. Segno bilancia. Occhio alle spese per i nati nella bilancia. Le tentazioni sono tante, luminose e piene di promesse, ma in questo periodo dovrete essere stoici. Qualche scherzo degli astri potrebbe portarvi in un periodo di instabilità, meglio avere le spalle coperte. Vi aspetta una settimana di montagne russe, assicuratevi di essere saldi in sella. Le influenze astrali indicano che i bilancia potrebbero affrontare sfide nelle dinamiche relazionali. È importante comunicare apertamente e affrontare eventuali conflitti con maturità. Branco ti consiglia di lavorare insieme agli altri per risolvere le questioni. La giornata potrebbe portare alle bilance una maggiore chiarezza nelle relazioni. Sarà un buon momento per discutere questioni importanti e prendere decisioni condivise con il tuo partner. Trova il giusto equilibrio tra le tue esigenze e quelle degli altri. Amore, comunica apertamente con il tuo partner e cerca compromessi che soddisfino entrambi. Lavoro, collabora con colleghi e partner commerciali per raggiungere obiettivi comuni. Salute, dedica del tempo all'autocura e pratiche di rilassamento per alleviare lo stress. Segno Scorpione Questa settimana potrebbe portare nuove opportunità finanziarie per gli Scorpione. È il momento di esaminare le tue finanze e di pianificare per il futuro. L'oroscopo di Branco suggerisce di essere attenti alle decisioni finanziarie e di evitare rischi eccessivi. I nati sotto il segno dello Scorpione potrebbero sperimentare una giornata di riflessione interiore. Riconsidera le tue priorità e valori personali, e cerca di fare scelte che allineino la tua vita con le tue aspirazioni più profonde. Amore, condividi i tuoi pensieri e sentimenti con il tuo partner per creare una connessione più profonda. Lavoro, mantieni la concentrazione sulle tue attività e perseguire i tuoi obiettivi con determinazione. Salute, pratica la mindfulness e la meditazione per favorire il benessere mentale. Giorni di pace per i nati nello Scorpione Finalmente vi godrete un po' di serenità, qualche momento da passare senza pensare a nulla se non alla vostra soddisfazione. Pomeriggi pigri che alimentano lunghi momenti di riflessione Cercate di capire se siete nella direzione giusta, siete ancora in tempo per cambiare rotta. Mettete poi a frutto l'energia accumulata, avrete un'occasione o due per portarvi avanti. Segno Sagittario Le energie planetarie favoriscono il Sagittario in ambito amoroso questa settimana. Potresti sperimentare momenti romantici e intensi con il tuo partner Branco ti consiglia di esprimere i tuoi sentimenti sinceramente e di dedicare tempo alla relazione. Tanta piattezza nei prossimi giorni per i nati nel Sagittario. Siete pervasi dalla stanchezza e dalla noia, nulla sembra in grado di stimolarvi in questi giorni. Poche novità sul vostro cammino e ancora meno voglia di cercarle. Annoiarsi non è necessariamente un male, usate questa monotonia come benzina per la vostra creatività. Le idee giuste si nascondono dove meno te le aspetti. I Sagittario potrebbero sentirsi particolarmente sociali in questa giornata. Sarà un momento favorevole per fare nuove amicizie e rafforzare legami esistenti. Sfrutta l'energia positiva per partecipare a eventi sociali o attività di gruppo. Amore, mostra il tuo affetto e apprezzamento per coloro che sono importanti nella tua vita. Lavoro, collabora con i colleghi e sii aperto a nuove opportunità di networking. Salute, mantieni uno stile di vita attivo e coinvolgiti in attività all'aperto. Segno Capricorno Per i Capricorno, questa settimana potrebbe portare nuove opportunità di crescita personale. È il momento di mettere in discussione vecchi schemi e di adottare una mentalità aperta. L'oroscopo di Branco suggerisce di abbracciare il cambiamento e di esplorare nuove prospettive. I nati nel Capricorno hanno bisogno di certezze. In ufficio la situazione è un po' travallante da tempo, è il momento di mettere da parte gli scrupoli e cominciare a tutelare voi stessi. Ci sono troppi sentimenti contrastanti, troppe questioni personali in gioco per illudersi di agire con oggettività. Cercate un parere esterno ed imparziale per togliervi il fumo dagli occhi. I Capricorno potrebbero trovare soddisfazione nella realizzazione di obiettivi a lungo termine. Concentrati sulle attività che ti portano più vicino al successo e mantieni una mentalità pratica. Il perseguimento costante dei tuoi scopi ti porterà risultati positivi. Amore Dedica del tempo di qualità al tuo partner e condividi le tue aspirazioni con loro. Lavoro Lavora diligentemente per raggiungere i tuoi obiettivi e pianifica strategie a lungo termine. Salute Fai attenzione al tuo benessere fisico e mantieni uno stile di vita equilibrato. Segno Acquario Le influenze astrali indicano che gli acquario potrebbero sperimentare momenti di riflessione e introspezione questa settimana. È un buon momento per esplorare le tue emozioni e per lavorare su te stesso. Branco ti consiglia di dedicare del tempo al riposo e al rinnovamento interiore. Batte forte il cuore dei nati nell'acquario. Le stelle supportano le vostre imprese amorose, in un periodo che sarà pieno di interessanti novità e incontri piccanti. Siete però combattuti tra il bisogno di sentirvi liberi, privi di responsabilità, e il senso di pace e stabilità di una vita di coppia. Anche chi è già in compagnia potrà avere dubbi, cose che desiderate davvero. Gli acquario potrebbero sentirsi particolarmente ispirati in questa giornata. Sì aperto all'esplorazione di nuove idee e approcci innovativi. L'energia creativa ti guiderà verso nuove opportunità di crescita personale e professionale. Amore, esprimi il tuo affetto attraverso gesti creativi e originali. Lavoro, metti in discussione lo status quo e proponi soluzioni creative. Salute, sperimenta con nuove attività fisiche o rilassanti per mantenere l'equilibrio. Segno pesci Questa settimana potrebbe portare opportunità sociali per i pesci. Potresti connetterti con nuove persone o partecipare a eventi stimolanti. L'oroscopo di Branco suggerisce di essere aperto alle nuove amicizie e alle esperienze che la vita ti offre. I nati nei pesci attraversano un periodo di rinascita. Tanti tonfi e brutti momenti in questo agosto vi hanno lasciato un po' acciaccati. In quest'ultima settimana avrete modo di guarire con i vostri tempi, senza pressioni aspettative. Non abbiate timore di appoggiarvi alle persone a voi care per un po', abbiate il coraggio di mostrarvi vulnerabili. Per i pesci, la giornata potrebbe portare una maggiore consapevolezza delle tue emozioni e sentimenti. Dedica del tempo all'autoriflessione e cerca di comprendere le tue esigenze interiori. L'intuito sarà forte e ti guiderà nelle decisioni giuste. Amore Mostra il tuo affetto in modi intuitivi e ascolta le tue emozioni. Lavoro Focalizzati su progetti che ti permettano di esprimere la tua creatività. Salute, mantieni una routine di autocura che promuova il benessere mentale ed emotivo.